Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ok ragazzi oggi diciamo ho fatto un video con il vostro amico che tanto seguite Frepe Giure Frepe Giure Abbiamo messo sul suo canale perché volevano avvisarvi diciamo Che potremmo fare diverse collaborazioni insieme Collaborazioni Prego In futuro mi avreste già visto forse Si E diciamo che vogliamo avvisarvi che io sono un canale Sono anch'io faccio parte di un canale It's a break Il canale è mio E sto con un mio amico Chi ha detto che ora non c'è E lui E questo mio amico diciamo Non c'è oggi perché non è potuto venire Però è lui che collabora con me In questi video di It's a break Ehm Fazio se dici ai tu i fans se mi possono segnare Certo Ragazzi voglio dire di iscrivervi assolutamente al suo canale It's a break Perché ragazzi tra video divertentissimi soprattutto i prank Se volete Che vi strappate Cioè se volete essere vi strappato una risata dalla bocca nel momento in cui siete riusciti Cioè ragazzi che vedete i suoi video sono veramente un toccasano Grazie mille Di niente Ma poi soprattutto ragazzi meriterebbe molti più iscritti quindi aiutatela a crescere perché veramente se continuerebbe a fare a macinare i views su views avrà più pova polarità e più strumenti adatti per portare un canale che veramente può avere grandi progetti Grazie mille Fazio e ragazzi un'altra cosa Ragazzi c'è un attimo una cosa Fazio il cognome non è il nome perché ve l'avete chiesto in tantissimi Mi chiamo Francesco Fazio Ecco Però erano schifosissimi i canali Ehm Non che questo sia il migliore Ma è il meglio degli altri E' fatto bene Ho tutte le foto Potete seguirmi su Instagram, Facebook e Ask Link in descrizione mi raccomando Fate anche i commenti Ditemi che scherzi devo fare io li faccio Mettete un bel mi piace soprattutto ragazzi Ehm Se mi aiutate veramente Siete dei grandi Forse qualcuno che vedrà questo video Già mi conoscerà Ehm Da diciamo un bel po' Ah essendo che diciamo il canale è dell'inizio Cioè da poco che l'ho fatto Ho solo tre video Tra cui uno Due sono di scherzi E uno è che il video di presentazione me lo avevano dato come copieretto Perché me l'ho dimenticato e ho messo una canzone sottofungo che non dovevo mettere E questo è quello che volevo dire Quindi ragazzi se volete video prank Sicuramente al 80% delle volte potrei trovarvi lui insieme a me Perché lui è veramente bravissimo e ancora è un coraggio che io sinceramente non ne avrei Grazie Ma se non vi preoccupate vi farò fare dei prank sul suo canale perché so tanto che voi lo amate Che lo volete guardare e quindi lo costringerò io a scendere e a fargli fare dei scherzi Mi dira la casa Quindi vedrete che nei scherzi ci sarò soprattutto io Perché diciamo Lui infatti un giorno mi chiamò perché disse Renato Senti in questi giorni volevo fare degli scherzi con te perché tu hai il coraggio di farli Quindi vorrei imparare un po' qualcosa E io gli ho detto ok Quindi aspettatevi come ha detto lui diverse collaborazioni E ragazzi Speriamo che sia un buon frutto Ok Il video è concluso qui Speriamo che vi sia piaciuto Iscrivetevi ad entrambi i canali Ricordiamo il mio è It's a Frank Mettiamo il link in descrizione E inseriamo anche la pagina Facebook Cos'è di mettere like E il suo già lo seguito Quindi il video è finito qui Grazie ragazzi per averci ascoltato Mettete tanti like a questa ragazzione Iscrivetevi ancora Anche se ha un 1400 iscritti E soprattutto ragazzi Per voi che mi seguite di più Se volete Frank dovete iscrivervi anche al suo canale Se non vuoi Lui non avrà la forza necessaria Moralmente di fare altri video con me E quindi andremo male entrambi Quindi iscrivetevi soprattutto al suo canale Grazie Grazie mille Ragazzi ci infettiamo al prossimo video Bella Bella a tutti Grazie mille Grazie mille